ma forse il signor Vestigio non ha capito una cosa ma lui lo sa bene e fa finta di non capire che adesso l'Inter deve essere radiata perché la curva collusa con le mafie ma guarda che tutto il paese è così non lo sai cosa sei? sei un Peter Pan che vivi e perché? è la tua Juve? i tuoi viking là? con chi erano collusi? è la curva a sud? e il Napoli? con chi era? che De Laurentiis ha fatto in modo di arginare? e la Lazio? tutte le società sono manipolabili tutta l'Italia è fatta in questo modo adesso lui si sveglia all'Inter è successo e dappertutto è così hai capito? stai calmo che ti prende qualche cosa stai calmo prendi la pillolina stai calmo Sergio stai calmo prendi la pillolina altro che la devo prendere io la pillolina e io sono tranquillo perché so com'è questo paese e l'Italia è fatta è fatta così lo capisci? così è fatta l'Italia quindi non sparare cazzate è fatta l'Italia è fatta l'Italia